In questo video ci occupiamo dell'imperfetto e sulla prima slide ti propongo le desinenze dei tempi storici, che sono diverse dalle desinenze dei tempi principali, quindi è utile che le memorizziamo da questo schema. Ni, sigma, men, te, ni o san sono le desinenze per la forma dell'imperfetto attivo. San o ni dipende dal fatto che ci sia un verbo della coniugazione tematica oppure della coniugazione a tematica. Leipo e leipon, didomi e didosan. E poi abbiamo a lato le desinenze del medio-passivo, che sono men, zo, to, mezza, nse, nto. Qui non trovi alcuna desinenza nell'attivo terza singolare perché non c'è, ed è appunto di solito nella coniugazione tematica, abbiamo la epsilon. La caratteristica dell'imperfetto è l'aumento, che trovi all'inizio del verbo e può essere di due tipi. Sillabico significa che si premette un epsilon al tema verbale e pempon, da pempo, oppure temporale significa che la vocale all'inizio del verbo si allunga. Per quanto riguarda l'aumento sillabico, devo però segnalarti che ci sono anche delle eccezioni. Per esempio, alcuni verbi anziché la epsilon hanno la eta come aumento sillabico. da bulomai e bulomen, da dünamai e dünamen, da mello e melon e ti segnalo questi tre verbi che significano rispettivamente volere, potere e stare per. Adesso andiamo ad approfondire il discorso sull'aumento temporale. Accade che l'alfa si allunghi in eta, per esempio edon, l'aumento è addirittura di un alfa di tongo improprio con iota sottoscritta che appunto si allunga in eta. L'epsilon si allunga in eta, quindi da ezzelo, ezzelon è l'imperfetto. Ma ci sono tutta una serie di verbi che fanno eccezione per i quali l'epsilon si allunga nel dittongo ei. Frequenti, per esempio, echo, che fa eikon, e hepomai, che fa eipomen. Ce ne sono però anche altri da segnalare, come per esempio eao, lascio, permetto, ezzizzo, abituo, ergazomai, lavoro, elisso, giro, ed altre ancora. Quando abbiamo il dittongo ai, la risultante è una eta con iota sottoscritta. Ho corretto la forma verbale, estanomen, viene da aissanomai, quindi percepire, io percepivo oppure mi accorgevo, il dittongo ei muta in eta iota sottoscritta o resta ei, la iota oppure la y brevi si trasformano relativamente perché in realtà la iota diventa lunga e la y diventa lunga, ben visibile invece che l'omicron diventi omega e che il dittongo oi diventi il dittongo improprio omega con iota sottoscritta. E ancora alfa con iota sottoscritta diventa eta con iota sottoscritta e poi, come abbiamo già visto sopra per ado, au diventa eu con l'eta, eu con l'epsilon, invece o resta eu, per esempio l'imperfetto di eu comai pregare è eu con to, oppure diventa eta ed y. A questo aggiungiamo la considerazione che restano invece immutate le vocali lunghe e restano immutati i dittonghi. Alcuni esempi a cui facevo riferimento prima per quanto riguarda l'eccezione della epsilon che si allunga in ei. E ancora consideriamo che i verbi che hanno il tema che incomincia per ro raddoppiano la ro e hanno premessa questa epsilon. Quindi erripton dobbiamo considerare che questo è il tema. Il verbo è ripto, gettare, quindi io gettavo. Attenzione che on, fra l'altro, può essere anche una terza persona plurale, quindi io gettavo oppure essi gettavano. Le due forme infatti coincidono. Alziamo l'asticella e occupiamoci dei verbi composti. Vediamo degli esempi. diebainon, exefeugon, metegrafon. Questi sono verbi composti, quindi la prima cosa che bisogna chiedersi di fronte ad un imperfetto per identificare il verbo è se si tratti di un verbo semplice o composto. Da questi esempi posso ricavare, considera l'esempio 1 e l'esempio 3, diebainon, metegrafon, che quando la preposizione, il preverbo, finisce per vocale, perde la vocale finale di fronte alla epsilon dell'aumento. Quindi, per esempio, diabaino diventa diebainon e non e così metagrafo diventa metegrafon perché l'alfa finale cade. Nel secondo esempio, invece, exefeugon è un composto di ecfeugo. Ec diventa ex nel momento in cui si frappone tra il preverbo e il tema del verbo la epsilon. Ci sono ovviamente anche delle eccezioni per quanto riguarda i verbi che hanno il preverbo che finisce per vocale. Nel caso dei verbi che sono composti con peri, pro e anfi, dobbiamo considerare che questi tre preverbi mantengono inalterata la vocale. Quindi abbiamo perieballon, anfieballon, pro eballon e faccio anche osservare che esiste la forma con lacrasi dove omicron ed epsilon nei verbi composti con pro si fondono. Bisogna fare ancora caso a come si comportano i verbi composti. Eneballon è l'imperfetto di emballo. Osserva come la ni originaria, compaia nell'imperfetto dove ni e beta sono separate. Mentre invece nel verbo che vai a cercare sul dizionario la ni e la beta si assimilano e così la ni diventa mi emballo. La stessa cosa accade per esempio per synebane. Il prefisso termina con la ni, il verbo incomincia con la beta e pertanto il verbo sul dizionario è simbaino in cui m e b come suoni sono la risultante di un assimilazione. Ma nel momento in cui si forma l'imperfetto e la epsilon separa le due consonanti allora la preposizione recupera la forma originaria. Occupiamoci di exegrafe. In questo caso il verbo sul dizionario non è ex grafo ma è ec grafo. Un'eccezione ancora da segnalare è cazzizzo pur essendo composto non inserisce l'aumento tra la preposizione e il verbo ma all'inizio quindi l'imperfetto risulta essere ecazzizzo. Ti invito a questo punto a seguire il video successivo che immediatamente sull'analisi delle forme verbali all'imperfetto.